... Sono strafelice di ritornare al Biondo con le colazioni d'autore e con la grande letteratura, diciamo in una domenica mattina che risveglia la coscienza, le anime vorrei dire di chi si viene a nutrire non soltanto diciamo delle cose buone che il Teatro Biondo offrirà ma anche delle cose buonissime che speriamo di offrirvi con questi racconti brevi sono tutti racconti brevi di diverse epoche e di diversi luoghi per cui c'è la grande letteratura italiana con Gadda e Calvino nella prima domenica, nella prima colazione d'autore che è il 10 di novembre e poi si continua con la grande letteratura russa il 17 di novembre Dostoievski e Nicolai Kokol sempre tratte dalle loro raccolte di racconti brevi poi domenica 24 novembre ci spostiamo in Sud America con il grande Jorge Luis Borges sempre da racconti brevi straordinari un grande, forse poco conosciuto qui da noi ma è veramente un grande, soprattutto in questo genere del racconto breve che è Julio Cortazar e dal suo bestiario sentiremo un paio di racconti brevi e poi si conclude domenica primo dicembre ci spostiamo in Asia ho scelto dall'Elefante Scomparso e altri racconti un paio di racconti brevi di Haruki Murakami e poi invece chiudiamo con l'India è stato autore che ho amato molto quando l'ho lessi qualche anno fa e allora ho pensato appunto diciamo che le emozioni belle che ho provato io nella lettura di Ruskin Bond da Il treno di notte potessero come dire anche suscitare delle emozioni e delle suggestioni in tutti voi che spero siate numerosi come lo scorso anno e spero che queste colazioni d'autore con il teatro della città aperto la domenica mattina possa continuare con Vincenzo Pirrotta o con altri in questo incontro che è tra sì, è sempre il teatro quindi c'è l'istituzione perché mi piace sempre immaginare il teatro come un luogo che ha una certa sacralità però in questo caso uscendo fuori da una messa in scena dal rigore che può avere il rito della sala dell'apertura del sipario e quindi invece è una cosa più informale quindi vi aspetto domenica 10 novembre è il primo appuntamento e per quattro domeniche fino a domenica 1 dicembre colazioni d'autore con la grande letteratura i grandi racconti brevi alla sala Streller del Teatro Biondo e per quattro domenica 10 novembre